Quest'anno il FireEvac Tour dedicherà la sua attenzione proprio al Codice di Prevenzione Incendi e al Regolamento UE 305 del 2011, meglio noto come Regolamento CPR, un'occasione unica in cui verranno approfonditi tutti gli aspetti normativi dei due temi. Partiamo dal Codice di Prevenzione Incendi pubblicato nel 2015. Scopo del nuovo codice è semplificare e razionalizzare l'attuale normativa in materia di prevenzione degli incendi, introducendo un nuovo approccio metodologico che garantisca gli obiettivi di sicurezza, offrendo approcci progettuali più innovativi rispetto alle normative attualmente in vigore. Il Regolamento Prodotti da Costruzione UE 305 del 2011 determina le condizioni per l'immissione sul mercato di prodotti da costruzione e per la marcatura CE. Riguardo ai cavi, la Comunità Europea ha individuato due caratteristiche rilevanti ai fini della sicurezza delle costruzioni. Parliamo della reazione al fuoco e del rilascio di sostanze nocive. Tutte le parti coinvolte nell'importazione, distribuzione, progettazione, produzione ed installazione sono direttamente responsabili in caso di dichiarazioni mendaci e perseguibili penalmente. Vuoi scoprire di più sul Codice di Prevenzione Incendi e sul Regolamento Prodotti da Costruzione UE 305 del 2011? Scegli una delle 5 tappe che ospiteranno il nostro Roadshow nel 2018. 15 ottobre Milano 17 ottobre Venezia 18 ottobre Bologna 19 ottobre Pistoia 22 ottobre Roma In attesa delle nuove 5 tappe del 2019. 19 ottobre Pistoia 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 19 ottobre Pistoia